Papa Francesco nel Dopo Angelus si rivolge di nuovo alle situazioni di guerra in Iraq e in Medio Oriente e chiede pace e chiede anche di pregare per il viaggio in Corea che inizia mercoledì. Prima dell'Angelus, commentando il Vangelo di oggi con i fedeli, con l'episodio di Pietro e i discepoli sulla barca nel lago dopo la moltiplicazione del pane e dei pesci, spiega il Papa che nel personaggio di Pietro, con i suoi slanci e le sue debolezze, viene descritta la nostra fede, sempre fragile e povera, inquieta e tuttavia vittoriosa. La fede del cristiano cammina incontro al Signore risorto in mezzo alle tempeste e ai pericoli del mondo. Papa Francesco nota che l'immagine della barca simboleggia bene la Chiesa e le difficoltà che deve affrontare e la fede dice a darci la sicurezza della presenza di Gesù sempre accanto, della sua mano che ci afferra per sottrarci ai pericoli. Tutti noi siamo su questa barca, dice il Papa, e qui ci sentiamo al sicuro nonostante i nostri limiti e le nostre debolezze. Siamo al sicuro, soprattutto quando sappiamo metterci in ginocchio e adorare Gesù, l'unico Signore della nostra vita.